Ma io volevo aggiungere una cosa in chiusura Che non facciamo mai Ma mi è venuto in mente adesso Perché mi è venuto in mente Che quando è uscito il monocazzari Del Sketchful Ci siamo dimenticati di caricarlo su Su Anchor E quindi i nostri ascoltatori Di Spotify Esatto sono rimasti a bocca asciutta E non sapevano dove Se fosse uscita la puntata E quindi io volevo Sottolineare il fatto che noi in realtà Pubblichiamo costantemente Aggiornamenti su Facebook e Instagram E quindi Inviterei a seguirci lì Perché così almeno rimangono aggiornati Su questi eventi Di cui ci scusiamo Perché non doveva succedere Ma ci siamo dimenticati Però aggiungiamo una cosa Che prossimamente non ci scorderemo di fare anche Le versioni Spotify Come facciamo con altre live Le versioni Anchor Sì 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 Di mettere uno spezzone E poi rimandare a YouTube Sì comunque è giusto per dire Di seguirci su Facebook e Instagram E poi vabbè Noi pubblichiamo su YouTube E su Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor E via dicendo For NAB Prossimamente Nel 2022 Ci stiamo lavorando Benvenuti Alla nuova canonica Del salotto Monogatari Oggi parliamo Di due film Usciti recentemente Al cinema E che erano In concorso A Cannes Che li ha premiati Tra l'altro entrambi Uno per la miglior regia Si tratta di Annette De Leo Carà E uno Per L'attrice protagonista Renate Sve Avrò sbagliato sicuramente La pronuncia Del film norvegese Del worst person in the world La persona peggiore del mondo Di Joachim Trier Infelice Omonimia Collapse Senza fondo E io Inizierei Con Joachim Trier Se siete d'accordo Chiedendo subito A Simone Che mi ha scritto in privato La protagonista È praticamente La versione femminile Di Dario Spiega Allora Spiego Allora Che stronzo Va bene Va bene Mi taccio Allora no Diciamo che È semplificativo Già pensando alla trama Perché comunque Lei è una millennial Nella prima mezz'ora Viene praticamente Esplicitato Quello che è il punto del film Da parte di un altro personaggio Quando lei va Con il suo Secondo fidanzato Un artista Dei fumetti Di 40 anni Ha una sorta di Ritrovo Con alcuni parenti Di lui E lei spiega Quello che è stato Il suo percorso Cioè che prima Ha cominciato a studiare Medicina Poi si è resa conto Che effettivamente Non era l'anatomia A soddisfare La sua curiosità Scientifica Ma ha l'animo E allora comincia E allora comincia a studiare Psicologia Per poi abbandonare Psicologia Perché ha la sindrome Dello studente modello E quindi Non riesce effettivamente Ad appassionarsi a nulla E passa alla fotografia Spiegando che effettivamente Quello che le interessa È il lato visivo Delle cose E praticamente Questo Quest'altro personaggio Le dice Ah vabbè I giovani d'oggi Hanno più problemi di noi Perché noi avevamo Tutto il tempo del mondo Ma effettivamente Nessuno ci faceva pressioni Per effettivamente Scegliere qualcosa Da fare per il futuro E quindi Il punto del film Qual è? Che effettivamente Lei si ritrova Che è un po' Una situazione condivisa Da tutti i millennial Possiamo dire A non riuscire A scegliere E a non capire Quando effettivamente La sua vita cominci Anche questo E semplificativo Viene detto più avanti Del fatto che Lei non capisca Se la sua vita È effettivamente cominciata Ma dopo 12 capitoli Ovviamente Quello che è successo Fa parte della sua vita E l'ha segnata In maniera irreparabile Quindi sì I parallelismi con Dario Mi sembra Inutile dire Che la nostra La nostra amicizia È morta In diretta Quello che volevo Volevo solo segnalare Pensavo Pensavo che il riferimento Fosse a All'erotomania E alla voglia Di drogarsi Con i funghi Allucinogeni E sono due amicizie Morte Però Indubbiamente Vabbè Allora Innanzitutto Io volevo dire Che Dario è una persona Che soffre Come tutti i millennial Perché L'incontro Era una cosa poeta Vabbè Seriamente insopportabile Oggi Vabbè Vabbè Guarda I millennials Vabbè 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 Uno scontro Generazionale In questa puntata Già Dall'inizio Joaquin Trier È super generazionale Perché Diciamo Sceglie sempre Almeno per i tre film Che ho visto Sospetto anche per Utoia 22 luglio Però ancora non ho visto Sempre personaggi Di una certa età Si sceglie benissimo Il gap Generazionale Cioè L'intervallo generazionale Da indagare Dal suo punto di vista Poi lui in realtà Ha spaziato Su modalità diverse Di messe in scena Thelma sfiora anche L'horror Per esempio In questo caso Sembra di assistere A una commedia Di quelle che Chiameremmo Agrodolci Specialmente Se andiamo a guardare Poi tutta l'ultima parte Del film Che ha a che fare Con la malattia E E procede Molto per Impressioni Dalla vita di Giulio Senza Senza alcune Nessuna costruzione In natura edificante Diciamo Di questo si deve Dar merito Al film E all'attrice Perché è seriamente Di una bravura Incredibile Lei è da Coda Johnson Comunque Però norvegese Sì lo dicono tutti Per ora è il trend Bravo Simo Sempre sul pezzo Invece Una cosa Che mi ha Diciamo Incuriosito E rispetto alla quale Diciamo Il film Non poteva tirarsi indietro Secondo me poteva Però Non l'ha fatto Per raccontare La Diciamo La vita Di una Trentenne Oggi E Viene affrontato Di petto Esplicitamente Il tema del Me Too Ma non viene fatto In maniera Diciamo come dire Come tema Extrategetico Se mi passate il termine Quindi come intenzione Del film Come può succedere Nella produzione Hollywoodiana Ma per fortuna Esiste Esiste Il cinema Diverso E in questo caso Invece il Me Too È proprio argomento E capitano situazioni In cui viene intavolato Il discorso E Ancor di più Viene Viene indagato Durante un'intervista Che viene fatta Al primo Il fidanzato di lei O il secondo Non mi ricordo Che è un fumettista Il primo E Gli viene fatto Un'intervista In televisione In cui viene accusato Da un'intervistatrice Di essere Sostanzialmente Un misogino Comunque Di avere Dei comportamenti Di scrivere Delle storie Con delle espressioni Molto Diciamo Aggressive E in realtà Anche lei lo pensa Però Quando si ritrova A guardare L'intervista Lei lo pensa Quando legge Alcuni dei suoi scritti Però quando Si ritrova A guardare L'intervista Come dire Si ritrova Tra virgolette Messa in difficoltà E anche il momento In cui poi Gradualmente Lei si va Riavvicinando Almeno umanamente A lui Anche per altri motivi Però Diciamo Ci sono una serie Di cose Che dal secondo Fidanzato La riportano Verso Il primo E E quindi Anche lei Diciamo Tramite Battutine Che mi hanno Anche un po' Ricordato Fleabag Ha sempre Si chiede sempre Quali siano I confini Del suo Femminismo E quanto Ci tenga Effettivamente O in realtà Quanto Non si è invece In qualche modo Interessata Al proprio Al soddisfacimento Di se stessa E non Di tutta la categoria Diciamo E c'è un po' Questo conflitto Che è simpatico Non pesa Forse È un pochino Un pochino Troppo Scritto Un pochino Troppo Razionale Il modo In cui Arriva nel film E ho la sensazione Che il film Non riesca Ad essere Del tutto Spontaneo Cioè Come se Avesse Dei freni In certe Situazioni Però Indubbiamente Non è Di da scalico Né niente Del genere Chiedo a voi Come l'avete Vissuto Questo 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 tema Come secondo Viene affrontato Se Il film Diciamo Come dire Ignavo E non E non Prende posizioni O se la prende O se fa semplicemente L'interesse Della suo protagonista Come secondo me No Il punto del film Mi trovi d'accordo Semplicemente È preso Dal punto di vista Della protagonista E quindi È una maniera No Non direi neanche Paraculla Di affrontare la questione Però Effettivamente Preso dal punto di vista Della protagonista Lei pensa Al soddisfacimento Di se stessa Quindi Non è Un argomento Che viene trattato In toto Ma mi viene da pensare Anche al fatto Che Con una vena Un po' comica Venga trattato Anche dal punto di vista Della fidanzata Del secondo fidanzato Quello che È L'attivismo ambientale Quando effettivamente Vedono un cervo E lei Sembra che arrivi All'illuminazione divina Che deve diventare Attivista ambientale Ah sì Una barzelletta Quella È proprio Quello super Macchiettistico Il personaggio Della Della tipa Anche se poi Tutti i ragionamenti Sui social Like non like Stecazzate Appunto Da millennial Diciamo La rendono Un pochino Parte delle vicende Dei protagonisti Ale Sì io sono Sono d'accordo Con te Secondo me Il momento Di cui parlavi tu Quando lei Vede la televisione In intervista Al suo primo fidanzato Al fumettista Secondo me È interessante Anche Più che altro Per Cioè Per lo sviluppo Del personaggio Di lei Nel senso che Fino ad allora Lei è sempre stata Appunto Un personaggio Concentrato Solo su se stessa Sulla sua individualità Su Su quello che Vuole O non vuole fare Dalla vita Più che altro Non vuole fare Perché non si capisce bene Cosa voglia Cosa voglia fare E Che è un po' Il tema del film Di fatto E In quel momento lì È Forse anche L'unico momento Del film In cui lei In qualche modo Scopre che Di fatto Anche Ci sono anche Altre persone Oltre a lei Che Che In qualche modo Hanno Diciamo Hanno una loro Personalità Hanno Un Un Diciamo Hanno Un loro Modo Di pensare Hanno una Loro Visione Del Del mondo Che può Essere In qualche Modo Anche Cioè Particolare Interessante Discutibile Mentre Fino ad allora Mi ha sempre Dato la sensazione Che lei Si ponesse In qualche Modo Un po' Sopra Gli altri Cioè Fosse Proprio Tutto Ruotasse Intorno A lei E Tutto Dovesse Essere In qualche Modo Cioè Dovesse Spettare Tutto A lei Quello Che Si Che Che Succedeva Nel mondo Tant'è Che c'è Poi Quella Scena Molto Bella In cui Si ferma Il tempo E lei Raggiunge Il secondo Fidanzato Subito Dopo Essersi Svegliata La mattina Aver Visto Il primo Fidanzato Si ferma Il tempo E lei Raggiunge Il secondo E passano Praticamente Una giornata Insieme Con il tempo In stasi C'è Questa Situazione Qua Che In qualche Modo Fa Fermare Mette Il mondo A sua Disposizione In qualche In qualche Modo Invece Quest'altro Momento Dell'intervista Secondo me È molto Funzionale Anche In questo Senso Qua Poi Sì Secondo me E anche Come dici Tu Il tema Del Me Too Mi sembra Trattato In maniera Cioè Un po' Diversa Dal solito Come hai detto Bene tu Non ho molto Altro da aggiungere A riguardo Un'altra scena Che ho notato Mi ha dato giusto L'assistale In cui effettivamente Lei mette Il mondo A sua disposizione E quando Durante una festa Fatta in onore Del fumettista Quindi il primo Fidanzato Lei è sul balcone Che fuma E Piano piano Sempre di più La città Dietro di lei È autofocus E quindi effettivamente Lei si pone In un aspetto Di superiorità Proprio perché Sta su una balconata Insomma sempre Dario Dent Comunque A me Non ho capito bene Ma proprio ammetto Non ho capito bene La necessità Della divisione In capitoli Anche perché È assolutamente Irregolare Te lo volevo chiedere Hanno durate Assolutamente A casaccio Alcuni brevissimi Alcuni Lunghissimi Ed è anche Un po' strano Perché Lanciano degli input A volte ironici A volte no Su quello Che deve succedere Rispetto a un personaggio Che non è affatto Incasellabile Quindi non so Se è un modo Tutto sommato Per illudere Che ci sia Una forma Al film Che poi in realtà Non ha In realtà Tutto sommato Ce l'ha Perché Nonostante Prosegua Per situazioni Però senza La mania Della scena madre Che è una cosa Che potrebbe Facilmente succedere Per un film Che Basti guardare All'ultimo Sorrentino Ma ne parleremo In futuro Viene sempre La tentazione Quando hai Un film Un pochino Meno narrativo Del solito Di proseguire Per scene madri E basta Invece no Il film Riesce a non essere Ad essere lineare Senza essere Forzatamente narrativo Cioè può anche Saltare di palo in frasca Però senza La necessità Di fare Delle scene Clamorose Se non appunto In un paio Di situazioni E E quindi Forse Non lo so Era Forse È parte Di questo Del fallimento Apparente Del film Perché poi È tutto apparente Di non riuscire A inquadrare Un po' Il personaggio E una Delle poche Scene madri È quella Della Della Dell'assunzione Dei funghi Allucinogeni Perché quella È veramente Assolutamente Deforme Come scena E In realtà La diciamo È un po' Inevitabile È irrimediabilmente Concentrata Su di lei E anche lì È un caso Come nella Scena Della corsa Di un mondo Che si ferma E che assume La forma Come Come Diciamo Tutto Rispetto A quella Che è lei Anche se È dubbia Sta cosa Perché non è che Neanche lei Sappia bene Chi è Quindi Come dire Quello che vede Sono alla fine Mostri È molto Comunque Lascia intendere Che Molte Molti Suoi dubbi Abbiano a che fare Con le interazioni Con l'altro sesso A volte Anche Con il suo corpo Vede Vede Dei corpi Diciamo Piuttosto Particolari Durante questo Delirio Che ha Allucinogeno Non so Rispetto a questa scena Se vi viene in mente Qualcosa Allora A prescindere Dalla scena L'idea Che mi sono fatto Come dicevi tu Qualche minuto fa È la stessa tua Nel senso Quello che vuole Fare Da un punto di vista Narrativo È cercare Di restituire Quello che è Lo straniamento Della protagonista In un mondo In cui non si riconosce Il punto è che Da un punto di vista Narrativo Quindi di scrittura Ci riesce Perché lei Non ha una vera e propria Evoluzione Se non magari Verso la fine E quindi Da un capitolo All'altro Lei Un po' evolve Un po' Però Da un punto di vista Formale Potremmo dire Visivo Questo straniamento Viene restituito In alcune scene Come possono essere I due set pieces Di cui avete parlato Quindi sia la scena In cui il mondo si ferma Sia la scena Dei funghetti Però Questo voler Questo voler Incasellare il film All'interno Di una struttura A capitoli Diciamo che va In contrasto Con Una certa spontaneità Che forse Avrebbe giovato Al film Comunque è difficile Fare Diciamo Si può Concedere al film Di aver tentato Una strada anomala Cioè quella Della Commedia sentimentale D'autore Che oggi Con i formati Che abbiamo E che riconosciamo Semplicemente È complesso Cioè il film Il film tutto sommato È anche un compromesso Editoriale Cioè lo puoi vendere Benissimo Come una commedia Romantica E tra l'altro Funziona Però allo stesso tempo Ti accorgi che ci sono Delle cose Che sono Irregolari In qualche modo Rispetto alla Classica Commedia romantica Di stampo Hollywoodiano Almeno Di quelle Contemporanea Per cui Non so Il punto è che Il film vive Con le stesse Indecisioni Della protagonista E non si capisce Se è un aspetto Positivo O negativo Specialmente Perché alla fine In realtà Questo a me Non è piaciuto Tanto Il peso Dato nella Parte finale Al discorso Della malattia Del primo Fidanzato Proprio perché In qualche modo Dà una chiusa E vuole fare Arrivare A una Conclusione Anche il finale Il finale Finale Un po' meta Con lei Che si trova Nel set Di una Ripresa Non si capisce bene Cosa Se me ne siete Accorti meglio voi Ma è un film Sembrerebbe un film O comunque Un video Una produzione Insomma Lei fa la fotografia Di scena Ecco È un pochino Come dire Quadrata Come voglia Di risolvere In qualche modo In qualche modo Si risolve Cioè almeno Per quello che è La tensione drammatica All'interno del film Nel testo Film In qualche modo Il suo personaggio Arriva A una Come dire A un suo Ha un suo Posto nel mondo Tutto il discorso Anche tecnico Finale Sull'inquadratura Sulla tipa Che si mette A piangere Nel bar Lei è fotografa Di scena Quindi in qualche modo Lei ha È fotografa di scena Nel senso che Fa le foto del set Oppure che è Tipo direttrice Della fotografia No no Fa le foto del set Fa le foto del set Comunque Diciamo Questo Il momento In cui viene Rivelata La natura fittizia Di quell'inquadratura Non lo so Mi ha dato l'idea Di lei Che improvvisamente Si trova in qualche modo Dietro la macchina da presa Quindi in qualche modo Anche a constatare La struttura Delle cose Quindi un po' Della sua vita Quindi mi è sembrato Un pochino Un pochino Scolastica Come situazione Un pochino Diciamo Banale Dai fammi dire banale Sì beh Io non l'ho trovata Così insistita In realtà Cioè poteva esserlo Anche molto di più In realtà Sì Cioè nel senso Vabbè diciamo Si accompagna Con tutta la precedente Mezz'ora Di lei Che parla col fidanzato E hanno Una serie di confronti Su ciò che è stato E sulla sua paura Di morire E quindi lei Diciamo Viene messa di fronte A un trauma Sì E questa cosa Continua a ritenere Diciamo Fa parte Del discorso Che facevo Cioè Il modo di risolvere Un personaggio Con un trauma Ci può stare Secondo me Se avveniva In maniera Meno Meno Scritta Alla fine del film Era un po' meglio Però La cosa interessante Secondo me Di quest'ultima parte È che alla fin fine Lei praticamente Non ha Quasi Quasi non parla Cioè Diventa Diventa quasi Coprotagonista Della seconda parte Del film Cioè Viene dato più parola A lui Che a lei Alla fin fine Lei Almeno io Ho percepito Un po' Questa Questa idea Quasi lei Diventa Cioè Si sente Proprio spettatrice Che probabilmente È l'effetto Che voleva Voleva dare Con anche Quel finale Lì Che dici tu Che in qualche modo Ha un po' Quella Cioè Di fatto il finale In un certo senso Potrebbe esplicitare Questa natura Da spettatrice Della sua vita Fino ad allora Che Cioè Nel momento in cui Si trova Ad affrontare Un trauma Diciamo Consistente La morte di qualcuno Qualcuno a lei caro E in quel momento lì Si accorge Che effettivamente Forse Almeno Almeno Lei Crede di non aver Effettivamente Vissuto Come avrebbe Voluto O Ha tentato Di fare O ha pensato Di fare Per tutte Le situazioni Precedenti Anche sulla questione Della Della divisione In capitoli Io più che altro Tu hai detto bene All'inizio Che è un po' Il film è un po' Frammentario E secondo me Proprio la divisione In capitoli Crea Questa Frammentarietà Della sua Della sua vita No In Quasi Diventa Aneddotica Alla fine Ogni capitolo È irregolare Ma sono anche Delle piccole Cioè Sono proprio Delle mini storie Dei mini cortometraggi Su Momenti Della sua vita Quindi Poi Che Effettivamente Fosse Fosse necessario Sia una struttura Che giova Il film Non saprei dire Perché anche a me Ha lasciato un po' Perplesso Però Diciamo È strano È strano Perché Appunto prosegue In maniera Aneddotica Ci scherzo Un po' Su Però poi a me Ha fatto Storcere il naso Proprio il segmento Sulla ex Del secondo fidanzato Che è ancora più Una barzelletta E Fa parte un po' Della sua idea Di Sufficienza Rispetto agli altri Che è una cosa Che inevitabilmente Viene Rotta Quando deve affrontare Il trauma Di qualcun altro E quindi Tu dici bene Diventa un poco Protagonista Di un personaggio Che lei aveva sempre Anche trovato In qualche modo Tossico Per tornare al discorso Di prima Perché è il fumettista Dopodiché Si trova effettivamente Protagonista Per un fatto Che è fuori Dal suo controllo E quindi lei Diciamo Riconosce Riconosce Che Diciamo Riconosce A quel punto I pesi Che vanno dati Alle cose In parte Almeno Quindi Non capisco bene Se Il fatto Che il film Proceda In qualche modo Per aneddoti Sulla sua vita Però poi Lei stessa Trasforma In qualche modo In adedoti Gli altri Proprio per questo Suo vago Egocentrismo Non capisco Quanto è Equilibrato Nel film Se effettivamente L'idea di mostrare Lei come aneddoto Sia un'idea ironica In partenza Del film Oppure Sia un modo Per dire Noi Non riusciamo Effettivamente A conoscerla Oppure Sia un modo Per dire È lei Che un po' Si odia Quindi si trasforma Anche lei In aneddoto Anche perché Si fa dei commenti Tra seste Un po' così Qui Insomma È un pochino Un pochino Incerto su questo Ne va secondo me Un pochino Del ritmo Del film Secondo me Secondo me È l'ultima Opzione Che hai citato Perché C'è anche Un dialogo Che quando Nel film Quando Lei dice Al suo Al fumettista Che lo vuole lasciare C'è questa discussione Questo litigio Che Lei Diciamo Che accusa lui Di razionalizzare Tanto Troppo Le loro discussioni Ogni volta Che litigano Ogni volta Che hanno Che parlano E in realtà Secondo me Lei Sta accusando lui Di una cosa Che in realtà Fa di fatto Lei Sulla sua vita Ovvero Che razionalizza Ogni Ogni elemento Della sua vita E forse La struttura A capitoli È anche parte Di questa Di questa Di questa cosa qui Di questa sua visione Della sua Della sua stessa esistenza Del razionalizzare Di incasellare In aneddoti Ogni Ogni momento Diciamo Per lei Importante Del Del suo percorso Del suo percorso Quindi Che è un po' Quello che hai detto tu Sì effettivamente Lei razionalizza Tutto quello Che le succede Ad esempio Mi viene in mente Quando Vede la nonna E inizia a parlare Della Della genealogia Della nonna Perché Effettivamente Lei è convinta Che Deve trovare Un effettivo Punto D'inizio Della sua vita Per poi Per poi rendersi conto Verso la fine Che la sua vita È già andata avanti Ma con lei Che è praticamente Distaccata dalla stessa Sì Cioè forse anche La situazione In cui Viene raccontata Un po' Brevemente La storia Dell'altra coppia E della Fidanzata Del suo secondo Fidanzato Quella ambientalista Secondo me Lei In qualche modo Fa questo Diciamo Riassuntino Anche per In qualche modo Giustificare La motivazione Per cui Lei È migliore Di quest'altra Ragazza No Nel senso Va a trovare Proprio tutti gli elementi Un po' Schizofrenici Schizzati Un po' Possessivi Compulsivi Di quest'altra Di quest'altro Personaggio Quasi andando A sminuirlo Va bene Se abbiamo Finito Sulla persona Peggiore del mondo Ovvero Dario Denta Allora io Direi La parola Proprio A questa persona No però Era un modo Per una liaison Per collegarmi Perfettamente All'invito A darti la parola Su Annette Su un'altra persona Peggiore del mondo Che non è Il povero Cara Però Insomma Il personaggio Adam Driver Però quasi Adam Driver Però Marco Prima della puntata Mi ha detto Che su Annette Dobbiamo parlare Cantando Se no non va bene Sarebbe La gioia di Ale Potremmo fare uno special Così A proposito Visto che voi Prima parlavate Del finale Quasi meta Del film di Trier Che io non ho ancora visto Ma volevo vedere Io direi che Prima o poi Bisogna fare un po' Una riflessione Su questo In generale Su Sulla Consapevolezza meta Che è diventata Un accento In molti film Che non hanno Il cinema Come soggetto principale Però è diventato Comunque Un accento Di Di autoconsapevolezza E Non lo so Non so se la vedo bene O male Io la trovo una cosa interessante Di cui parlare Ed è presente anche in Annette Tra l'altro Perché Annette Subito all'inizio Tra l'altro Inizio strepitoso Io stavo Già ballando In sala Proprio Le gambe si muovevano Autonomamente E inizio strepitoso C'è Cara Con la figlia Che è Con lei a cui è stato Dedicato il film Nastia Mi pare Si chiami È un nome Improbabile Ma d'altronde È la figlia di Cara Che praticamente Avvia il film Poverina È figlia di un'attrice Russa Che era Yekaterina Colubeva Nastia Ah è un nome russo Ok ok Sei proprio cattivo I russi È la persona peggiore del mondo Meglio non inimicarsi i russi Di questo periodo Ma in ogni caso Loro danno avvio al film E i protagonisti C'è Adam Driver Marion Cotillard E Simon Helberg Iniziano Insomma Cantano questa canzone In cui Sono appunto Consapevoli di star Iniziando il film Poi vengono anche chiamati Con i nomi dei personaggi Come se i personaggi Interpretassero loro stessi Insomma Tutta una serie di cose Per cui Come al solito E come un pochettino Diciamolo pure Forse Ma anche Marco lo ammette Come un pochettino È caratteristica dei musical C'è proprio una consapevolezza Di finzione Perché ovviamente Nessuno Va in giro cantando E quindi Questa costruzione Metatestuale Che comunque c'è Anche in Carà Serve perfettamente Non solo metatestuale Direi anche metateatrale Perché specialmente Le scene che coinvolgono Marion Cotillard Che interpreta Una cantante lirica Sono prepotentemente teatrali Con queste scenografie Da Proprio da opera In alcuni momenti Anche il modo Con cui Con cui Si sarà Benissimo In cui Carà Riprende Queste Questi 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 spettacoli lirici Mi hanno ricordato Un po' Addirittura i racconti Di Hoffman Di Paolo e Presburger Però insomma In ogni caso C'è una consapevolezza Metatestuale Metateatrale E nonostante questo Carà utilizza Un armamentario enorme Tra canzoni Danze Una regia parecchio dinamica Scenografie Molto 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 Ragionate Ad esempio Nella scena In cui Adam Driver E la scena In cui Muore Marion Cotillard Sulla nave Con questa Nave che balla Questo sfondale Questo fondale Finto Però al contempo Molto verosimile Insomma Utilizza una serie Di un armamentario enorme Per raccontare Semplicemente Una storia Una cosa Parecchio Alternativa Di questi tempi Però anche qui C'è il tema Del Me Too C'è il tema Della tossicità Maschile Tutta incentrata Sul personaggio Di Adam Driver Ma sono davvero Solo Secondo me Poi Sentiamo gli altri Solo Delle virgole Nella narrazione Nel senso Che servono Per avviare Il meccanismo Narrativo Però in sé Il film è ben altro E per esempio Io ci ho visto Un interesse Molto più forte E che mi ha Davvero commosso Per Mettiamola così La semplifico Per i diritti Del minore Nel senso Che c'è davvero Una centralità Di Annette Della figlia Di Adam Driver E Marion Cotillard Che nonostante Sia interpretata Da una marionetta Almeno per Gran parte Del film E Nonostante questo C'è una Come dire Una centralità Dei suoi sentimenti Con questo viso Sempre Costantemente Teneramente Depresso Dispiaciuto Che Diciamo Di rado Visto Almeno nel cinema Recente Per cui È un film Che mischia Un sacco Di 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 forme D'arte Differenti Però per Raccontare In realtà Una storia D'amore Molto semplice C'è anche Dei meccanismi Classici La tragedia greca Quest'uomo Che è quasi Perseguitato Da quello Che è Dal destino Non è visto Semplicemente Come un mostro Però è Qualcuno Che inevitabilmente Si comporta così Quindi c'è qualcosa Di Di tragedia greca Dietro E che alla fine Impara qualcosa Però Trova il rifiuto Della generazione Successiva Trova il rifiuto Netto Della figlia E chiede poi Di non essere Più guardato Cioè chiede Che il film Finisca Su Questo show Le forme D'arte Che ci sono L'opera Lirica La stand-up Comedy Io l'ho trovato Da appassionato Di stand-up Comedy L'ho trovato Bellissimo Perché Adam Driver Riesce Perfettamente A A mimare E a Riassumere Una serie Di Tic Degli stand-up Comedian Americani C'è Bill Barr Qualcuno ha parlato Di Bob Barnum Però l'ho visto Un po' di meno Ci sono delle cose Ovviamente Di Bill X A un certo punto Fa l'inchino Che faceva George Carlin Alla fine Dei suoi Dei suoi Spettacoli Ovviamente Canta e balla Ecco su quello Magari più Barnum Perché Ti interrompo Un attimo Una cosa che ho notato E che Più che un vero e proprio Spettacolo Di stand-up È proprio Una Concettualizzazione Di Un'idea Di stand-up Che magari Accarà E che ha voluto Trasmettere All'interno del film Ma più che altro Cioè non è che È che Essendo musical Ogni situazione Deve essere Deve essere Concettualizzata E esplicitata Dal testo E dalla canzone E quindi vale anche Per la stand-up Ma Adam Driver Come performance Si Insomma Fa un bel riassunto Di alcune Dinamiche Di alcuni gesti Anche della stand-up comedy E poi Ovviamente Essendo Annette Una marionetta C'è anche Il teatro Delle marionette Ci sono anche Elementi Fantastici Perché Annette Viene Viene Sollevata In cielo Insomma Ascende al cielo Durante gli spettacoli Tra l'altro Io mi aspettavo Che si vedesse Esplicitamente Il filo Che la tira su Invece non avviene Quindi insomma C'è un elemento C'è un elemento Anche Fantastico C'è anche La musica Sinfonica Nel personaggio Di Simon Helberg Che è un direttore D'orchestra In questa scena Stupenda Che so Che anche a Marco Ha provocato Effetti positivi Per non dire altro In cui appunto La camera gira Intorno a Simon Helberg Che canta Il suo pezzo Ma al contempo Sta anche dirigendo L'orchestra E quindi ogni tanto Chiede scusa Allo spettatore E torna a dirigere Prima di tornare A parlare di se stesso Quindi insomma Riassumo Il mio intervento Tante forme d'arte Differenti Tutte riassunte Nel musical Una centralità Per il personaggio Infantile Nonostante non dica Praticamente nulla Ma Noi guardiamo La storia Dallo sguardo Sempre più Intristito Di questa bambina Marionetta E E poi anche Diciamo L'esibita Finzione Di molte scene Di molte convenzioni Che però Non toglie assolutamente Carattere Ovvero simiglianza Al film Paradossalmente Ovviamente Convengo Sul fatto che I musical Non siano realistici Ed è Una cosa Diciamo Che ha sempre E' vero Che a volte Diciamo Passeggiando Comincio a saltellare Dipende Cosa In cui Però E' Una cosa Diciamo Annette Secondo me E' Una Delle Infinite Declinazioni Che venivano Lanciate Da Olimotors Con cui condivide Non solo L'atmosfera Di questo limbo In cui Ci sono Gli attori Che manco attori Sono Sono Forme Da Cioè Sono Contenitori A cui dare Un ruolo Ma condivide Anche Banalmente La presenza Delle Delle Limousine Il L'Incipit Si chiude Con loro Che Si portano Alle rispettive Limousine Vengono portati Nel Nel luogo In cui devono Andare a Performare In Olimotors Veniva chiaramente Detto che La finzione In realtà Era evidente Non soltanto Nei momenti musical Ma nei momenti Diciamo Un po' di tutti I personaggi Quando andavano A fare La loro interpretazione A partire da Merd Che era Sostanzialmente Una forma Di happening Come anche La marcetta Fatta dentro La cattedrale Insomma Ci sono Tante cose Che erano Assolutamente Fuori Dalla realtà Però poi In realtà Quando Si tornava Alla realtà Non c'era niente Era soltanto Una massa Informe Di cosa A cui dare Una forma E un ruolo E Qua Diciamo Lui decide Il musical Perché il musical Classicamente Porta una serie Di questi Dilemmi Sulla messa in scena Non solo Rispetto Ai contatti Che ci sono Fra cinema E teatro Ma anche Rispetto A A Come Una Un'idea Talmente Assurda E tanto Finzionale Quanto Può Essere Il musical In realtà Possa Essere Più Vera Della realtà Perché In qualche Modo È un Setaccio Di quello Che effettivamente Si vuole raccontare Di un evento E quindi Il fatto che il film Sia talmente Tragico E talmente Come dire Abbia questo Questo respiro Assolutamente Imponente Con Dei personaggi Che si raccontano E raccontano Una parte specifica Di sé Cioè non sono Personaggi complessi E sfaccettati Vanno Diciamo Nella direzione Degli eventi Della narrazione Epica È un modo Diciamo Per Per raccontare In maniera Più efficace Una cosa E comunque Fa parte Della realtà Quindi al solito Il musical Diciamo Serve a Serve a Sottolineare E a farlo Diciamo In una maniera In una maniera Non schematica Perché Sottolineare una cosa Ma Sfidando I limiti Del cinema Ma anche del teatro Della recitazione Eccetera È inevitabilmente Un modo imprevedibile Di fare una cosa Io ho sempre Ritenuto E lo ritengo Ancora Che Cara sia L'unico Sopravvissuto Della Nouvelle Vague Lui non era Parte della Nouvelle Vague Però se c'è un autore Realmente Post Nouvelle Vague È lui E me lo conferma Tutto l'interesse Che per il musical Avevano i registi Della Nouvelle Vague Quando Sono cresciuti Da Rivette A René Che Nonostante I tributi A A Jacques Demy Che era Che è in qualche modo Anche presente In questo film Che era Il controcampo Del musical Di Broadway E del musical Hollywoodiano E Diciamo Con tutto quello Con tutto il fatto Che guardavano A Jacques Demy Rivette René Ironizzavano Sempre di più Sul 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 musical E Azioni Realmente Banali Senza mai Arrivare a diventare Teatro Nel senso Scenico E dell'inscatolamento Della scena Comunque Tutti e due Ironizzavano Tanto E Si domandavano Dove altro Potesse Portare La forma Musical Una volta Una volta Fatto Ingresso Nell'odiosissimo Postmoderno Se c'è un film Che annulla Le narrazioni Oli Motors Ma direi anche Gli altri film Di Carat E quindi Secondo me Annette Alla fine Di tutto questo Preambolo E E Proprio Il Diciamo Il sunto Più epico Di quello che Carat intende Per 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 cinema E per spettacolo Ed è sempre Molto Molto Come dire Velenoso Perché Non È un'ironia Tragica È un'ironia Nel senso Di ironia Non Umorismo Non per far ridere Ma per capovolgere Una serie di situazioni Ed è Ed è molto Interessante Alla fine La scelta Di dare Poi un corpo Ad Annette Perché Diciamo È È In qualche modo È In qualche modo Un mostro Annette All'inizio Cioè È Nascita Da due Da due Di queste Creature Totalmente posticce Nate dal mondo Senza forma Che sta dietro le cose Secondo Carano Per cui Se nasce in quel mondo Ed è Diciamo Un bambolotto Poi alla fine Assume un suo ruolo Nel finale Ed è il suo ruolo Tragico Un po' più attivo Perché finalmente Non è più Gestita Da loro due Ed è tragico Perché evidentemente È lei Che stava Diciamo Assumendo un ruolo Che gli era stato Dato Dai Dai suoi genitori Quindi C'è anche questo discorso Di Di Riportare I rapporti umani Irriducibilmente A delle messe in scene Che uno impone All'altro Ma infatti Molto più banalmente La nascita di Annette Serve Per scopi diversi A entrambi i genitori Dove Lo scopo di lei È quello di Riuscire effettivamente A scrutare All'interno Dell'anima Del personaggio Di Adam Driver Mentre quello di lui È quello di effettivamente Diventare padre Quindi Sì Il fatto che sia una marionetta Ha un doppio significato Quello che dicevi tu E poi Più banalmente Il fatto che Sia una figura Manovrata dai due genitori Per i propri scopi Che poi viene semplificato Dal fatto che La madre usi La sua voce Attraverso la bambina Per ricordare Il senso di colpa Al personaggio di Adam Driver Di averla uccise E comunque in sintesi E comunque in sintesi Ritengo che Cara sia interessato A indagare Cosa possa Avere Appeal Su uno spettatore Diciamo Abituato A certi modelli Di narrazione Cinematografica E Scollandosi Completamente Dalla realtà Cioè Riuscire ad accedere A Degli aspetti umani Senza attaccarsi Alla realtà E' intrigante Anche il fatto che Il film si chiuda Ovviamente Tragicamente Con L'impossibilità Di Annette Di perdonare suo padre E C'è evidentemente Una sorta di Riflesso Un po' Sadico Da parte di Cara Legato al fatto che Cara Evidentemente Diciamo Sta parlando In qualche modo Del rapporto Con sua figlia Però sua figlia Se la tiene stretta In entrambi i momenti In cui Cara Appare in scena Cioè sia all'inizio Che alla fine Ed è Anche Si intravede Anche uno specchio Tragico Personale D'altronde La tragedia Di Caterina Colubeva E un evento Colubeva Non mi ricordo E diciamo Un evento Che ha segnato Pesantemente La sua carriera E in qualche modo L'ha mosso Durante gli ultimi film Perché Pesa Per cui Insomma Ci sono Un sacco Di livelli A cui si può leggere Questo film Però secondo me Alla fine Il riassunto è La cosa più sintetica Del mondo Può Comuovere Quello che hai detto Tu sulle apparizioni Di Cara È significativo All'inizio Inizio Lui si tiene La figlia Si avvicina E lui Tiene la mano Stretta Sulla spalla E poi E poi nel momento In cui i personaggi Si avviano A entrare Nelle limusine A iniziare Il film Si vede Proprio Al lato Dell'inquadratura Apparire Cara Che stringe La figlia E guarda I suoi personaggi Che si allontanano E quello che ha detto Simone È verissimo Cioè Ci sono vari motivi A mio parere Per cui Annette È una marionetta Il primo Che è quello Che avevo già detto È che La marionetta Come figura Rappresenta bene Diciamo La fissità Di una Di una Di una sensazione Negativa Le marionette Sono un po' tristi In generale E quella di Annette È particolarmente triste Per cui È una rappresentazione Davvero Emblematica Al massimo Grado Di un'infanzia Rovinata A prescindere Poi dai motivi E poi anche Perché come avete detto È Emanoprata dai genitori E Annette Non è che non perdona Il padre Annette non perdona Nessuno dei due Ed è significativo Che Nel momento in cui Adam Driver Quindi quando È in galera Si rende conto Di quello che ha fatto Guardandolo Guardandola In quel momento Il simulacro Marionettistico Di Annette Rimane a terra E lei diventa Finalmente una persona Ma non perché Non lo fosse già priva Ma perché Non era stata Considerata tale E addirittura Questa è la cosa Interessante Perché Lui avrebbe potuto Benissimo Dire Vabbè Sostituisco Alla marionetta Un'attrice Un'attrice Vera Perché Questa scena È particolarmente Intensa E quindi serve Un'attrice Vera Ma in realtà Non è che lui fa Una sostituzione Perfetta Nel senso che Quando Annette Vera Va via La guardia Carceraria La porta Via Dal padre La Annette Finta La marionetta È ancora lì È per terra Con Mano nella mano Con il suo pupazzo Scimmia Ed è l'ultima cosa Che Ad Andrea Versichina A guardare Per terra Prima di Chiedere Al regista O a noi Di smettere Di guardarlo Per cui È proprio È palese È una cosa Evidente Il fatto Che Non ci sia Una Non ci sia Una sostituzione Perfetta È una sostituzione Di Di Intenzioni Questa La vecchia Annette Quella manovrata Dei genitori È morta Quella nuova È Quella che Piange E si Diciamo E scarica Tutta la sua La sua La sua Tragedia Sulle persone Che gliel'hanno causata Quindi Questa Questa Doppia Funzione Anzi Tripla A questo Punto Della Marionetta È È Uno Degli aspetti Centrale Del film Ed è il motivo Per cui Alla fine L'arte Delle Marionette È Un po' Nonostante ci sia Il musical Ci sia la stand up Ci sia l'opera È un po' L'arte centrale All'interno Di Annette Perché È il momento In cui La forma Si sposa Perfettamente Con Il senso Di quello che Il regista Presumibilmente Voleva dire Ah E poi Un'altra cosa Mi sono ricordato Adesso E Questo Volevo Volevo Chiedervi Questo Riflettiamo Un attimo Sui pochissimi Momenti Tra cui Anche Questa Scena I pochissimi Tratti In cui Caras Sospende Il musical Quindi Questa È una cosa Di cui Mi interessava Discutere Perché Mi è venuto In mente Dato che Ale Che è quello Più Antimusical Tra noi Ma anche io Sono messo Abbastanza bene Da quel punto di vista Insomma Si lamentava Tra virgolette Del fatto Che cantassero Anche quando Sargono i gradini O cose del genere Però ci sono Dei momenti E in particolare Il primo incontro Tra Adam Driver E la vera Annette Che sono Puramente Dialogati Anche se Magari Brevissimamente Però sono Evidenti Perché Essendo il film Tutto Completamente Cantato Questi Pochi momenti Spiccano In maniera Significativa Ecco Volevo una vostra Impressione Su questa Su questo Su questo Elemento Diciamo Io Onestamente Ho una risposta Molto scontata E cioè Che Anche In una Opera Lirica Esistono Non solo Quelli che ti avevo Già citato Pure in chat I recitativi Che servono Semplicemente Per traghettare All'area Successiva Ma anche Momenti In cui La musica Si blocca E diventa Altrettanto Musicale Il farli Parlare E E quindi Come dire Secondo me Cara non esce Mai da questo Regime Da questa Scatola Scatola Che è anche Una scatola Complicatissima Che io Al cinema Ricordo Soltanto Per i racconti Di Hoffman E per Visto di recente I cannibali Di Oliveira Che è addirittura Un'opera Lirica Pensata Per lo schermo E che Con Cara Comunque condivide Quest'idea Dell'assolutamente Finto Per accedere All'assolutamente Vero Per dirla In maniera Scena Per cui in realtà Io Non lo trovo Un fuoriuscire Grosso Da questa scatola Non lo trovo Lo trovo Molto Molto naturale All'interno del film Come Lo trovo Lo trovere Natural In un'opera Però Magari Gli altri Io per esempio Vedo uno stacco Davvero Significativo Perché Qualunque cosa Banalmente Cantata Anche il momento In cui muore Marion Cotillard È molto Intenso Guarda caso Nel momento In cui Annette Diventa Bambina C'è un momento Proprio di silenzio Dei suoni E loro si parlano Per un po' Sussurrati Come se In quel preciso Istante Caraves Ha detto Sospendiamo Un attimo La finzione Che è quello Che non ha fatto Per In nessun momento Del film Ma neanche Sul tocco Tragico Finale Appunto Adam Driver Guarda lo spettatore Quindi Cioè È più finzione Di così Però in quell'istante Forse sovra Interpreto Però Proprio emotivamente Io l'ho percepito Così Al di là Di rifletterci Sopra In quell'istante Si ferma tutto Quando ci si rende Conto Della Concretezza Della Della bambina Che si ha di fronte Dura Dura Non moltissimo Perché poi Ricominciano a cantare Però è il recitativo Più lungo del film Questo Forse uno Due minutini È proprio Un momento Di Di Consapevolezza Grave Non lo vedo Come un cedimento E anzi Ci sta benissimo All'interno In questo senso Hai ragione Perché Non è che Spezza il ritmo Del film Però Ha un accento Un peso Di un certo tipo Che Insomma Per quanto mi riguarda Emotivamente Ha il suo Ha il suo senso Ha il suo corrispettivo Poi sentiamo Simone e Ale Sì Ale Il senza cuore Ma perché senza cuore A me è piaciuta Quella parte Discussa Adesso tocca a te Prima ce l'avevano con me Su dai Io la peggiore Persona del mondo Esatto No vabbè Io in realtà Sono d'accordo Con tutti e due Nel senso che A me ha dato un po' La sensazione Quel momento lì Del Cioè Ma anche Forse A livello di ritmo Cioè serve In qualche modo Come ha detto Marco Per preparare Poi A effettivamente La La parte Musicale finale Che effettivamente Almeno È quella Anche più toccante È quella più Emotivamente Forte Probabilmente Di tutto Il film Quindi Non lo so Io Nel senso Io l'ho vissuto In maniera Molto spontanea Cioè anche Molto naturale Quel momento lì Nel senso Lei diventa Effettivamente Bambina vera E questo Momento Di Breve Momento Di Quasi Di Di realtà Tra Tra i due Tra i due Personaggi È come se Si togliessero Le loro maschere E si mostrassero Per quello che sono Davvero Per poi dopo Avere questo Confronto Musicale Anche Serrato In un certo senso Quindi Nel senso Non saprei tanto Come Cosa aggiungere Nel senso Mi sembra molto funzionale A quello che vuole dire Come dici tu Dario Simeone Beh L'unica suggestione Che mi sento Di aggiungere È che In parte Non sono d'accordo Con il gettare La maschera Di cui parlare Secondo me L'intento Del film È che anche In queste parti Recitative Siamo all'interno Di una finzione Ma per il semplice Fatto che io Ho interpretato L'utilizzo Dei simboli All'interno Del film Come se Effettivamente Noi non siamo Di fronte A una finzione In sé per sé Ma siamo di fronte Alla finzione Della finzione Siamo di fronte Quindi a un simulacro Come direbbe Bertetto E quindi Secondo me È un modo Sì Per avvicinare I due personaggi Ma sempre All'interno È una finzione E mi trovo Più d'accordo Con Marco Quando dice Che effettivamente È una questione Più Più formale E quindi L'amicizia di Dario e Simone È finita Come la puntata Credo Vabbè 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 Rimango Più o meno Della mia idea E Questa è l'ultima Andate tutti a fanculo Diciamo Su Carà Avviene la scissione Avviene la scissione Definitiva È interessante Storicamente Sarà rilevante Come passo Di questo Sì Da segnare Che gli annali Della storia Ogni tre secoli Lui lo doveva fare Proprio per farci Separare a noi Insomma Quindi tornerai Al prossimo film di Carà Inizierà il nuovo capitolo Del salotto monogatari La scissione Di Dario Denta Esatto Esatto Di Dora Denta Grazie a tutti.